Per me è una cosa che non mi aspettavo perché io volevo fare un'esperienza nel femminile perché volevo fare una cosa nuova fondamentalmente e perché ho sempre creduto nel movimento femminile. Sono andato in Nazionale nel 97 quando non ci credeva proprio nessuno, nemmeno andava all'Olimpia allora alla Nazionale, io ci credevo nel movimento femminile e dal 97 adesso è cambiato completamente, le giocatrici sono di un altro livello, i club, tutto è cambiato. Le nazionali giovenili hanno vinto e pensavo di poter migliorare molto queste squadre, non pensavo di fare un'Olimpia così dove abbiamo vinto tutte le partite in meno 1-3-0, questo non me lo aspettavo, ma non me lo aspettavo nemmeno in quarti, ho detto ragazzi, dobbiamo aspettarci una partita lunga come quasi tutte le altre, sono finite il tie-break, poi avevano vinto 3-0, ma se noi ci sfiorassi solo per la testa, per il futuro, che questa è la norma, sarà un disastro, questa non è la norma. Come hai riuscito a ricreare la magia in questo gruppo che era un po' in difficoltà? Ma non è la magia, è un lavoro, io insisto che va bene il gruppo, spesso quando una squadra vince piace molto alla gente sentire, perché è il gruppo unito, perché sono tutti amiche, ma non è così, cioè non è così che si vince. Quando mi ricordo Mancini ha vinto l'Europeo con la Nazionale, tutti i giocatori, non altri, i giocatori, è il segreto che siamo molto uniti, ma il suo gruppo è molto uniti, gioca male, perde. Non è un concorso a vedere di amicizia, sono partite, bisogna giocare bene. Non è un concorso a vedere.